Ancora uno show di De Luca che a tempo che fa. Il presidente della regione Campania è stato nuovamente invitato per un collegamento nel programma di Fabio Fazio e ancora una volta il governatore ha approfittato dello spazio televisivo per sfoghi, polemiche e battute. De Luca è sortito parlando ai rischi delle festività natalizie, soprattutto se si concede un clima di rilassamento con misure anticontagio blande. Ma dobbiamo dire con grande chiarezza che se vogliamo godere il calore di Natale quest'anno apriremo le porte delle terapie intensive a metà gennaio e le porte dei cimiteri per altri 10.000 decessi per Covid. Questo è il quadro. Parliamo con grande e brutale chiarezza altrimenti non ci capiamo. La polemica contro le scelte del governo è iniziata con il duro attacco e i criteri con cui sono stati assegnati i colori alle varie regioni italiane. Io sono fra quelli che non guarda proprio il pannello che voi fate vedere. Quel quadro dal mio punto di vista è una grande marchetta. Si pronuncia algoritmo ma significa marchettificio. Togliamolo di mezzo. Il governatore ha espresso serie dubbi anche sull'ipotesi di aprire la mobilità fra i piccoli comuni nei giorni festivi. Apriamo la mobilità nei piccoli comuni. Sapete quanti sono i piccoli comuni sotto i 5.000 abitanti in Italia? Sono il 70% dei comuni, 10 milioni di abitanti. Se apriamo la mobilità a 10 milioni di abitanti non ci sarà più nulla da fare perché avremo una ripresa drammatica di contagio a gennaio. Questo è il quadro che abbiamo di fronte. Se il governo decide di lasciare la mobilità per i comuni sotto i 5.000 abitanti, a mio parere dobbiamo aprire a Palazzo Chigi una sezione di psichiatria democratica perché davvero andiamo al disastro. La polemica maggiore è scoppiata sui recovery fund. De Luca attuonato furioso contro le indiscrezioni trapelate sulle possibili divisioni dei fondi europei destinati alla ripresa del paese. Il governo non può dire diamo il 34% al sud e il 66% al nord. Le proporzioni devono essere esattamente capovolte. Poi vi sono altri 127 miliardi che riguardano i prestiti e qui ragioniamo ma è inimmaginabile che fondi che arrivano per riunificare i paesi, per ridurre il divario di disoccupazione e di reddito vengano utilizzati senza privilegiare le aree svantaggiate e per le quali sono state destinate quelle risorse. Non sono mancate poi le classiche battutine volte a denigrare i membri del governo nazionale. Il Presidente del Consiglio ha detto che ai migliori ministri del mondo, con un atto come dire di fine umorismo, io credo che abbiamo tre o quattro ministri di grande valore, il resto francamente mi pare arte povera. Il Presidente del Consiglio